Avere una mentalità forte è fondamentale per la felicità nella vita. È come possedere una forza interiore che permette di perseverare nelle situazioni difficili. La resilienza mentale consente di affrontare gli ostacoli, rimanere impegnati nei propri obiettivi e affrontare le sfide con risolutezza. Fare affidamento solo sulle proprie capacità non è sufficiente. Questo video esplora i concetti fondamentali del buddismo e la loro connessione con sé e abitudini che possono indebolire la nostra mentalità. Comprendendo e applicando questi insegnamenti, possiamo intraprendere un percorso per rafforzare la nostra mente, diventare più attrezzati per superare le avversità e comprendere meglio il messaggio del video. Guardalo fino alla fine. Abitudine numero uno Una mentalità negativa Una mentalità negativa, concentrandosi sempre sugli aspetti negativi di ogni cosa, ci indebolisce mentalmente, facendo sembrare tutto cupo e senza speranza. Quando ci concentriamo solo sulle cose negative, perdiamo di vista le cose belle che accadono intorno a noi. È come indossare occhiali scuri che oscurano anche i momenti belli. Questa prospettiva negativa può influenzare le nostre azioni e decisioni, facendoci evitare di correre rischi o provare cose nuove, perché siamo convinti che falliranno. Il buddismo enfatizza la consapevolezza, che implica prestare attenzione ai nostri pensieri, sentimenti e sensazioni nel momento presente senza giudizio. Praticando la consapevolezza, possiamo diventare più consapevoli dei nostri schemi di pensiero negativi e imparare ad osservarli senza esserne consumati. Il buddismo ci insegna anche l'importanza di accettare le cose come sono, piuttosto che resistere o cercare di controllarle. Accettando la presenza di pensieri ed emozioni negativi senza giudizio, possiamo ridurre il loro potere su di noi e creare spazio affinché sorgano esperienze più positive. Abitudine numero due Lamentarsi di cose che vanno oltre il nostro controllo. Spesso continuiamo a lamentarci di cose che non sono sotto il nostro controllo. Questa abitudine indebolisce la nostra mente, deviando la nostra attenzione su ciò che non va invece di cercare una soluzione. Il buddismo Ci insegna che lamentarsi di cose che non possiamo controllare è come ricevere una chiamata urgente. Ci fa solo male, concentrandoci su problemi incontrollabili anziché su soluzioni, rimanendo bloccati nella negatività. Ci ricorda che tutto cambia. Quando ci lamentiamo, pensiamo che i brutti momenti dureranno per sempre, ma non è così. Dovremo accettare gli alti e bassi della vita, come ballare sotto la pioggia anziché arrabbiarci per la tempesta. Accettare ciò che non possiamo cambiare ci impedisce di lamentarci continuamente. Il buddismo ci insegna anche a concentrarci su ciò che possiamo controllare, come governare una barca in una tempesta. Non possiamo controllare il tempo, ma possiamo controllare la barca. Questo ci spinge da lamentarci alla risoluzione dei problemi. Lasciare andare è molto importante. È come mettere giù un pesante sacco di preoccupazioni, facendoci sentire più leggeri e creando spazio per la felicità. Seguendo questi insegnamenti, possiamo gestire meglio le sfide della vita, accettare il cambiamento e concentrarci su ciò che conta, liberandoci dalle lamentele e trovando la forza per affrontare i momenti difficili. Abitudine numero tre. Incolpare gli altri per i nostri problemi. Spesso iniziamo a incolpare gli altri per i nostri problemi, ma questa abitudine può davvero indebolire la nostra mente e rubarci la gioia. Il buddismo ci insegna che diamo forma al nostro futuro attraverso le nostre azioni, un concetto noto come legge del karma, che ci insegna che nessun altro è responsabile dei problemi che affrontiamo. riceviamo ciò che diamo. Per liberarci dall'abitudine di incolpare gli altri, dobbiamo comprendere questa legge. Dovremmo anche perdonare gli altri, non perché ciò che hanno fatto fosse giusto, ma per toglierci il peso della rabbia dalle spalle. In questo modo, riprendiamo il controllo sulla nostra mente, troviamo la pace e apriamo la porta alla felicità. Abitudine numero quattro. Lasciare che le tue emozioni ti governino. Quando non abbiamo il controllo sulle nostre emozioni, esse possono portarci ovunque vogliano, anche in un posto dove non vogliamo andare. È come essere travolti da un fiume e perdersi nel flusso dell'acqua. Il buddismo ci insegna a osservare le nostre emozioni come se stessimo guardando un fiume dalla riva. Se non governi la corrente, ti porterà dove vuole, il che può essere pericoloso. Questo è ciò che accade quando lasciamo che emozioni come la rabbia o la paura dettino le nostre azioni. Perdiamo il controllo su dove stiamo andando. La consapevolezza, un concetto chiave nel buddismo, è come avere un timone per navigare in quel fiume. Ci permette di riconoscere le nostre emozioni quando si presentano, di capire perché sorgono e quindi di decidere come rispondere in un modo che sia utile e non dannoso. Ad esempio, se qualcuno ti disturba, la reazione immediata potrebbe essere la rabbia. Ma con la consapevolezza puoi notare la rabbia. Chiederti perché ti senti in questo modo e scegliere una risposta che risolva la situazione con calma. In questo modo, abbiamo il controllo delle nostre emozioni anziché essere controllati da esse, mantenendo la nostra forza mentale e pace interiore anche di fronte a sfide emotive. Abitudine numero 5. Soffermarsi eccessivamente sugli eventi passati Soffermarsi sul passato è come portare uno zaino pesante pieno di ricordi che ci rallenta e rende più difficile il nostro viaggio attraverso la vita. Questa abitudine indebolisce la nostra mente tenendoci bloccati in ciò che è già accaduto e ci impedisce di vivere appieno il presente o di guardare al futuro. È come provare a guidare un'auto guardando costantemente nello specchietto retrovisore. Siamo destinati a perdere di vista ciò che sta davanti. Il buddismo fa luce sul motivo per cui soffermarsi sul passato ci rende mentalmente deboli e su come possiamo liberarci dalla sua presa. Praticando la consapevolezza impariamo a vivere nel momento presente eliminando l'afa dei rimpianti passati. Perdonando gli altri e noi stessi possiamo aprire la porta per liberarci del nostro passato e entrare nel presente senza fardelli. Comprendendo l'impermanenza di tutte le cose possiamo lasciare andare le esperienze passate che ci trattengono. Incorporando questi insegnamenti ci liberiamo dalle catene del passato ed entriamo nel presente con leggerezza pronti ad abbracciare ogni momento mentre si sviluppa. Abitudine numero 6 Preoccuparsi di ciò che gli altri pensano e dicono di te. Preoccuparsi di ciò che gli altri pensano e dicono di te è come portare in giro un modello delle loro opinioni sulla tua testa. Può spogliare la tua individualità e autenticità. Le persone avranno sempre qualcosa da dire sulle tue azioni e se le ascolti costantemente ostacolerai i tuoi progressi e ti tormenterai mentalmente valutandoti attraverso la loro lente. È come se stessi navigando su una barca e fossi costantemente sballottato dalle onde passeggere di critica o lode. Tuttavia nel buddismo la pratica dell'equanimità ci incoraggia a rimanere in equilibrio tra le maree in continua evoluzione delle opinioni degli altri. È come rimanere fermi su un terreno solido mentre i venti della critica o della lode soffiano intorno a noi. rimanendo stabili praticando l'equanimità non lasciamo che le lodi gonfino il nostro ego o le critiche sgonfino il nostro spirito. Sviluppiamo resilienza di fronte ai giudizi esterni giudicandoci solo in base ai nostri criteri. L'obbedienza è come vedere noi stessi attraverso gli occhi degli altri e non i nostri. Il buddismo enfatizza l'accettazione di sé e l'autenticità insegnandoci a riconoscere il nostro valore intrinseco e abbracciare le nostre qualità uniche. Questo ci protegge dall'impatto dei giudizi esterni permettendoci di affrontare la vita con fiducia e forza interiore. Queste sono le sei abitudini che possono indebolire la nostra forza mentale abbracciando insegnamenti buddhisti come l'accettazione consapevole l'equanimità l'impermanenza e il lasciarsi andare possiamo affrontare le sfide della vita con maggiore chiarezza e sicurezza. Integrando questi principi nelle nostre vite intraprendiamo un percorso verso un'esistenza più soddisfatta e gioiosa. Cosa ne pensi? Fammelo sapere nei commenti. Ti auguro di vivere in pace per sempre e ti aspetto sempre qui sul canale Il Segreto del Samadhi. A presto!